Sindaco Florindile è stato tra i più critici in questa emergenza rifiuti ma anche tra i più attivi nel cercare una soluzione che ieri sembra essere arrivata attraverso un accordo con la DECO anche se con prezzi che subiranno un leggero aumento. Sì, dobbiamo ancora scongiurarlo questo aspetto perché proprio in queste ore Ambiente Spa sta concordando i nuovi prezzi, le nuove tariffe. Si dovrebbe advenire a una provvisoria servizio data la DECO nell'emore dell'espletamento della nuova gara fino al 30 settembre. Quindi speriamo che almeno possiamo scongiurare l'emergenza sanitaria. L'assessore Febbo l'ha chiamato in causa anche se indirettamente ha criticato i sindaci che invece di andare alla BIT devono mettere a disposizione i propri denari per risolvere l'emergenza. Lei cosa risponde? Penso che abbia perso un'occasione per stare zitto perché se fossi io assessore di questa regione mi vergognerei per quello che non hanno potuto fare, non hanno saputo fare in questi cinque anni. Basta fare un giro a 360 gradi, mancano di pianificazione, di programmazione su tutto. Io posso soltanto sottolineare un aspetto. Una dote positiva ce l'ha l'assessore Febbo che è quello che difende a denti stretti la propria provincia e il proprio elettorato. Cosa che invece in provincia di Pescara questo non è successo a tutti i livelli. Quindi anche questa è una manganza di peso politico da parte della provincia di Pescara. A livello di peso specifico siamo zero.